Lo scorso mese si è parlato molto delle azioni cinesi e in modo particolare del loro sell-off. Le notizie intorno alla repressione normativa e ai possibili lockdown hanno avuto la funzione da catalizzatori. Con le valutazioni che hanno raggiunto livelli davvero accattivanti, molti si stanno chiedendo se è giunto il momento di acquistare azioni cinesi. Una seconda notizia che vale la pena discutere è anche cosa pensa Cathie Wood di questo aumenti di tasse di interesse e quali potrebbero essere le possibili conseguenze. Ma come sempre tutto questo ne parleremo dopo la sigla. Buongiorno o buonasera cari investitori ed eccoci qua in un nostro nuovo video. La Cina è considerata da molti come un'ottima opportunità di investimento. Tutti conoscono aziende come Tencent, Alibaba che hanno suscitato l'interesse da parte di molti value investor proprio perché hanno dei modelli di business consolidati, degli ottimi fondamentali e soprattutto hanno un prezzo che è inferiore rispetto al fair value dell'azienda. La caduta del prezzo da parte di Alibaba è dovuto principalmente dalle autorità di regolamentazioni cinesi che a differenza dell'America applicano sanzioni dure e immediate nei confronti delle big tech. Inoltre una politica zero covid non aiuta di certo la situazione delle imprese. Però pare che le acque si stiano un po' movimentando, che alcune cose stiano cambiando. Questo perché il vice premier degli affari economici ha rassenerato gli investitori dichiarando di aiutare le imprese che operano nel settore immobiliare e soprattutto di non mettere troppi paletti a quelle che sono le aziende big tech. Per questo molti hanno iniziato a domandarsi è arrivato il momento di acquistare le aziende cinesi? Beh, per prima cosa analizziamo dal punto di vista tecnico il mercato azionario cinese. In particolare prendendo riferimento il CSI 300 beh, non è necessario essere un esperto di analisi tecnica per vedere come il grafico sia in un forte trend ribassista. Questo è dovuto alla differenza dei prezzi rispetto alla media a 200 periodi. Mentre analizzando lo Stato dal punto di vista economico possiamo dire che la politica zero covid sta già portando i suoi effetti. Infatti l'ultimo dato dell'attività manufatturiera e dei servizi è in contrazione. Analizzando l'ultimo dato del PMI che per PMI non si intende piccola-media impresa ma purchasing management index il dato si trova al di sotto dei livelli 50. Questo indica che lo Stato è in decelerazione. Il PMI è un dato molto importante perché indica l'attività manufatturiera che vi è in un paese. Quindi tiene conto della capacità di uno Stato di acquistare beni e servizi. Quindi se il dato è al di sotto di determinate soglie di livello vuol dire che l'economia sta rallentando. Inoltre tutte le problematiche relative al settore immobiliare non giovano di certo a un paese che sta affrontando alcune difficoltà. Al contrario invece delle politiche di quantitative tightening che sta adottando soprattutto la banca centrale americana la Cina invece sta adottando una politica monetaria espansiva per cercare di favolire quelli che sono i flussi finanziari derivanti dall'estero. I principali leader finanziari il mese scorso si sono preoccupati di cercare di allentare quelle che sono le repressioni normative, sostenere il settore immobiliare e cercare di dare un impulso all'economia del paese. Le banche centrali però non hanno esplicitamente dichiarato di perseguire una politica di taglio di tasse di interesse. Infatti un dato che ha sorpreso molto gli investitori è stata la volontà della banca centrale cinese di non tagliare questi tasse di interessi sempre per cercare di favorire l'economia. Ma analizziamo invece ora quello che è il sentiment degli investitori cinesi. Gli investitori cinesi hanno intenzione di aumentare le proprie quote sul mercato azionario perché ritengono che abbiano raggiunto il bottom. Inoltre in un recente sondaggio effettuato da Bloomberg che ha analizzato il sentiment di 21 hedge fund ed analisti che hanno sede in Cina e Hong Kong il 43% di quest'ultimo ritiene che le azioni abbiano raggiunto già il bottom. Mentre invece un altro 33% prevede che toccheranno il fondo entro la fine di questo trimestre. Per i titoli che sono quotati a Shanghai e Shenzhen i due terzi degli investitori hanno dichiarato di voler aumentare le proprie esposizioni su questo mercato. E al contrario solo il 10% ha dichiarato di voler diminuire le proprie posizioni. Tuttavia gli investitori sono ben consapevoli che i guadagni che si aspettano sono ancora modesti. La stima mediana per l'indice di riferimento CSI 300 e per l'indice Han Seng entro la fine di questo trimestre è pari a 4.400 e 23.000. Questo vuol dire che dovrebbero realizzare un rendimento che è pari dal 4% e al 5%. Quindi cerchiamo di rispondere alla domanda che interessa di più a voi investitori. È arrivato il momento di acquistare azioni cinesi? Beh, le basse valutazioni cinesi e gli stimoli monetari possono di certo rappresentare un'ottima opportunità. Però nonostante questo è difficile sapere se è giunta l'ora di acquistare azioni cinesi. Inoltre è anche importante considerare quale sia il vostro orizzonte temporale. Ovvero farete delle valutazioni completamente diverse a seconda se volete acquistare un'azienda nel lungo periodo rispetto che nel breve periodo. Inoltre è anche opportuno non solo valutare l'aspetto macroeconomico cioè l'aspetto economico proprio della Stato Cina ma anche il rischio specifico, quindi quelle che sono il bilancio relativamente all'azienda che volete investire. Passiamo invece alla seconda notizia che è meritevole di essere commentata. Katie Wood, la fondatrice di ARC Investment Management ha dichiarato che la decisione della Fed di alzare i tassi di interesse potrebbe essere un errore. Questo perché secondo lei i dati economici non dimostrano una forte economia statunitense e con una prospettiva di inversione di curva di rendimenti questo non potrebbe giovare al mercato statunitense. Secondo Katie Wood vi è tutta l'intenzione da parte della Fed di aumentare di 50 punti base il prossimo appuntamento i tassi di interesse. Questo perché secondo la visione della Fed l'economia statunitense è forte. Inoltre il recente dato rilasciato in merito all'occupazione ha rafforzato la tesi della Fed. Ma perché Katie Wood è così preoccupata di questo possibile aumento di tassi di interesse? Beh perché se conoscete il portafoglio di Katie Wood sappiamo bene che si tratta di aziende che hanno un elevato beta che operano nel settore tecnologico le cosiddette aziende growth che gli hanno consentito negli ultimi due anni di realizzare enormi profitti. Però sappiamo bene di come quando aumentano i tassi di interesse le aziende tecnologiche cioè le cosiddette solitamente le aziende growth tendono molto a risentire di questo forte aumento. Questo perché è dovuto principalmente dai modelli di valutazione che utilizziamo noi investitori in quanto il tasso di interesse sta al dominatore di una formula che è il discounted cash flow. Siccome è alquanto complicato fateci sapere qua sotto nei commenti se volete che noi trattiamo questa formula che magari faremo un video apposito. Però come sempre a noi ci piace ragionare con i dati. Dal 1972 al 1981 la Fed ha aumentato i tassi di interesse dal 3 al 20% e si nota in questo grafico come le aziende growth abbiano sottopoerformato rispetto all'azienda value. Esaminando quindi le performance dei titoli growth paragonato a quelle dei rendimenti delle aziende value nelle 13 campagne di innalzamento dei tassi di interesse che sono avvenuti nel periodo dagli anni 50 agli anni 80 si vede come le aziende value abbiano sovraperformato le growth in 7 rispetto ai nuovi cicli di aumento di tassi di interesse. Le altre due occasioni hanno visto prevalere le growth rispetto alle value ma con un rendimento modesto. Perfetto cari investitori siamo giunti alla fine anche di questo video fateci sapere qua sotto nei commenti se anche voi state acquistando azioni cinesi e se soprattutto siete d'accordo con la dichiarazione che è stata fatta da Katie Wood. Se vi piacciono i nostri contenuti mi raccomando cliccate il tasto like che a noi aiuta veramente tanto. Mentre noi invece ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!